Insieme alla cronaca non si fermano le morti sul lavoro, altre due le vittime in poche ore. Ha perso il controllo del macchinario mentre tagliava una lamiera, una ferita profonda alla gamba che ha reciso l'arteria femorale. È morto così un operaio di 53 anni, originario di Sava in provincia di Taranto, dipendente di una ditta metalmeccanica. L'incidente è avvenuto all'interno di un capannone a Taranto intorno alle 8. A Farneto di Tortorella in provincia di Salerno, un operatore agricolo di 48 anni è finito sotto il trattore sul quale lavorava che si è ribaltato a causa del terreno scosceso. Secondo gli ultimi dati diffusi dagli INAIL, sono 463 le persone morte sul lavoro nei primi mesi del 2022. Il lieve calo rispetta i primi sei mesi dello scorso anno, ma i numeri sono sempre troppo alti. Il vicepresidente nazionale dell'ANMIL, l'Associazione dei Mutilati e Invalidi del Lavoro, Fortunato Cassini. Devono intervenire in maniera coordinata i servizi di ispezione, i servizi di sicurezza interna delle aziende. Aumentare la prevenzione vuol dire prevenire i danni e gli effetti luttuosi.